Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, mi scuso per ieri perché il video che uscito era una merdata pazzesca il volume della musica di sottofondo era completamente a palla quindi non mi sentivo io mi sentivo un po' come al cocurico che tentavo di parlare col mio interlocutore, cioè non si capiva un cazzo mi scuso ma sto cambiando computer, non so se è stata una mia distrazione ma non credo perché ci ho fatto veramente attenzione a quel video di ieri ci tenevo particolarmente, ormai è perso, the show must go on, quindi continuiamo avanti con i nuovi video e parliamo del video di oggi che ha come argomento il governo dell'Italia, l'Italia ancora non ha un governo per tanti problemi allora io con VB Channel e l'Unione GFC ci siamo trovati, ci siamo parlati e abbiamo deciso di creare una squadra di governo che sia in grado veramente di risollevare l'Italia dai problemi che la afflicco io veramente penso che questa squadra possa fare veramente tanto 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 per l'Italia e cominciamo subito col Premier il Premier ragazzi non può essere ovviamente che Massimiliano Allegri, il condottiero della nostra squadra che ha veramente portato la Juventus a battere ogni record in Italia con un settimo scudetto di fila è in grado di gestire qualsiasi squadra di governo, puntiamo tutto su Max Allegri per quanto riguarda il Ministro della Salute ovviamente diamo il buon esempio a tutta l'Italia per uno stile di vita salutare, nomino Andrea Agnelli con Vice Presidente Pirlo fresco di una delle performance più belle e spettacolari di tutta la sua carriera guardate un po' ministro dell'economia ovviamente Gianluigi Buffon perché tutto quello che tocca Gianluigi Buffon ragazzi diventa oro, basti guardare un po' alla sua holding che è delle azioni di aziende grandi che sono quotate in borsa per esempio la Zucchi che da poco ha fallito se non sbaglio ha chiuso un bilancio in rosso con meno 8,5 milioni sotto e così via li ha dovuti rimettere di tasca, insomma un casino nero ragazzi fatto sta che non possiamo non affidare le sorti dell'economia italiana a uno come Gianluigi Buffon ministro dei beni pubblici ovviamente ragazzi Martin Caceres il nostro ex che è veramente ramato dalla GTT il gruppo torinese trasporti ovvero l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Torino tanto è vero che con la sua Ferrari ha pensato bene di demolirgli la metro Dante, la stazione, un pezzo là con la sua Ferrari mentre girava penso anche in lieve stato di ebrezza non possiamo non dare a lui e affidare a lui questo incarico fondamentale per migliorare le infrastrutture e i beni pubblici in Italia ministro dello sviluppo economico Arturo Vidali il nostro ex che tanto è reclamato qua in Italia torna dalla Juve, torna alla Juve, torna alla Juve tanto è vero che lui su Instagram ha messo like a una persona stranamente quella persona era un barista di Torino visto la sua fama di uno che girava nei locali e che gli piaceva ogni tanto alzare il gomito pensiamo che veramente un suo ritorno in Italia a Torino possa risollevare l'economia di tutti questi baristi quindi abbiamo individuato lui come figura giusta per il ministro allo sviluppo economico ministro dell'istruzione, Sami Chedira, da quando in Italia, da quando c'è, c'è tre anni non ha spiccicato una parola in italiano, porco Giuda, è arrivato Ovedes che in tre mesi veramente gli ha fatto 3 a 0 pensiamo che possa essere veramente anche lui un ottimo ministro per veramente risollevare completamente l'istruzione in Italia dar nuova linfa all'università e così via perché veramente il suo è un esempio da prendere in considerazione il ministero del lavoro è qua, non sto scherzando, direi Sturaro Sturaro è uno che non ha le capacità, che ne so, di Douglas Costa non ha il piedino fatato di Pjanic però diciamo la verità, è uno che si fa un boccio di culo così durante gli allenamenti e penso che lui veramente in questo caso possa essere un ottimo ministro del lavoro e che dia il buon esempio ai giovani che per arrivare a certi risultati anche se non sia talento basterebbe veramente metterci tutto l'impegno del mondo e tentare veramente di arrivare a quelli che sono i propri sogni in questa maniera col duro lavoro Ministero della Difesa non è il caso di dire altro veramente c'è Barzaione, la roccia, la roccia Vici ovviamente anche là il buon Giorgio Chiellini che due dighe in difesa centrale due persone che potrebbero essere veramente incaricate a difendere tutta l'interna nazione Ministero della Giustizia ovviamente il nostro direttore sportivo no, direttore generale perché direttore sportivo è paratici, scusate Beppone Marotta che lui in quanto a punizioni e giustizia all'interno della squadra si è fatto rispettare chiedere a Bonucci conferme Ministero delle Politiche Agricole Blaise Matuidi ha due piedi che sembrano due zappe e lui che è il simbolo veramente del Ministero delle Politiche Agricole non potevamo non prendere lui potevamo anche prendere Sturaro però Sturaro è uno che è veramente meno dotato di Matuidi però col lavoro ha dimostrato di arrivare là dove tanti non sono arrivati per cui era degno di quel posto Matuidi invece che ha giocato al PSG aveva tutt'altra carriera bisogna mettere che ha due zappe al posto dei piedi quindi è giusto quel posto come Ministro per Blaise Ministero dell'Interno e questa non è mia ma del buon Nino JFC e si vede Manzukic perché basta non lo vogliamo più vedere come esterno quindi Ministero dell'Interno non più esterno mi raccomando ragazzi fatemi sapere la vostra ditemi che cosa ne pensate di questa squadra di governo ditemi chi mettereste al posto di chi fate la vostra squadra scrivetevela nei commenti mi raccomando iscrivetevi al canale vi ricordo che stasera alle 21.30 c'è la live appuntamento anche a domani alla solita ora con un prossimo video mi raccomando sprizzi in mano ore 19 colpo gobo su youtube fate i bravi e fino alla fine forza io intus